Musica E ovviamente c'è ancora nebbia Oggi è la giornata, l'anniversario della fondazione della scuola, il giorno libero Tutto preciso preciso eh Devi indagare per la città, ti chiedi se riuscirai a raccogliere informazioni necessarie per agiuffare il killer Mi chiedo altri confident Ad esempio la vecchia Ma anche il ragazzino che stiamo aiutando a fare i compiti se ci avrebbero scritto qualcosa Yumi è stato bello che ci scrivesse comunque Wow, c'è la nebbia anche a Dukina È incredibile Mia figlia ha avuto un incidente Come se un bel stascio il colpevole è scappato Nessuno ha riuscito a dignificare l'auto per via della nebbia Perbacco, è terribile Per fortuna non si è fatta nulla di grave Comunque aveva ragione, vero? La nebbia è pericolosa Lo dirò a tutti Devono sapere Ok, credo che l'unica zona utile sia Eh, la madonna Pure le foglie sono cadute all'improvviso Signore, salve Ti serve qualcosa? Lei sa qualcosa? Ora che me lo dici, ricordo che la città era infermente in primavera scorsa Te lo ricordi anche tu? Molto utile, signore Sto dicendo, mi sa che l'unica zona utile Andare in città-città Non queste zone esterne Mi dispiace, ricordo solo che è successo qualcosa So che è stato sconvolgente Ma che vuoi che ti dica? È passato tanto tempo Ovviamente Un tizio con la mascherina Continuano tutti a dire tossica qua e tossica là Anche io inizio ad avere paura Chissà dove posso procurarmi una maschera antigas Ne ho bisogno Ce l'hanno tutti Lei, signore Eh, ecco, ce l'hanno quasi finito La nebbia non se ne va È intollerabile Sarò a capodanno così freddo Che non potrò mai essere felice Cosa vuoi? Non ricorderò mai una cosa così tanto tempo fa Eh, beh, effettivamente scemo anche io che chiedo Questa nebbia è fitta e inquietante, vero? Oh, vuoi farmi una domanda? Poco fa hanno detto di aver catturato una persona sospetta Era scritto sul giornale Quel Namatame-san, giusto? Ricordo di averlo visto da queste parti, tanto in tanto Oh, è terribile Questa cosa mi terrorizza Non mi sembrava di aver visto altre persone sospette È lui il colpevole, non c'è dubbio È vero che non c'erano altri individui sospetti Forse dovresti chiedere a qualcun altro Tu hai trovato qualcosa? Anche se è morto qualcuno Le persone dimenticano così in fretta Eppure le voci riportate dagli amici o dalla persona in tv Vengono ricordate a lungo Perché? È passato tanto tempo dai primi due incidenti Credi che qualcuno li ricordi ancora? Speriamo Tu? Trovato qualcosa? Ha chiesto in giro anche di Teddy Ma è sorprendente che lo ricordi a così tante persone Dicono tutti Oh, sì Il tipo del costume del Juness Ma non l'ha visto nessuno Né ieri né oggi Sono in tanti ad amarlo Dove cavolo si sarà cacciato? Ehi, senti questa Risette è venuta a parlarmi È stata un'occasione unica Le ho chiesto un autografo Che tipo di ragazzi le piacciono Comunque, cosa vuoi? Come puoi vedere sono molto occupato Ricordi qualcuno di sospetto? No, non mi sembra di aver visto persone sospette A parte te che stai interrompendo la mia chiacchierata con Risette Fottiti Tanto non te la dà Voleva uscire con me, coglione Prima ho provato a parlare con un vecchio Ma con questa nebbia non mi ha nemmeno visto Mi ha ignorato e ha tirato dritto Non era nulla di personale, lo so, ma ci sono rimasto male Maledetta nebbia Levati di torno Menala Informazioni su cosa è successo prima che entrassimo nella TVE? Sai, pensando al primo omicidio Perché sarà successo? Chiediamo in giro e raccogliamo tutte le informazioni possibili A dopo È esattamente quello che speravo sarebbe successo Non una lettera, ma che succedesse qualcosa C'è un altro pezzo di carta Sopra c'è scritto qualcosa con una calligrafia orrenda Come se qualcuno avesse usato la propria mano debole per farlo Orrenda addirittura? È uscito tutto fuori Non leggo bene Forse dovrei uscire di più con Marie Ha bisogno di parlare un po' mi sa Ah, cosa mi sta succedendo? Perché questa si trova qui? L'avevo messa in tasca Non ha alcun senso Deve essere Ehi, non leggere quella roba Canaglia sconsiderata Come osi leggere ciò che scrivo dando voce al mio cuore? No, no Non è la voce del mio cuore Calmati Marie Se proprio devi dare sfogo al tuo impulsi Sei pregata di farlo da un'altra parte Silenzio È soltanto Eh? Impulsi? Dare sfogo? Non fare finta di niente Smettila di leggere le mie cose Marie torna a sedersi ancora incerta E provare la rabbia in barazzo Voi non sapete nulla, vero? Questa nebbia deve essere una specie di arma biologica È un complotto Sei di chi è la colpa? Del Junes Sì, esatto Del Junes La Nazione del Junes ha organizzato un assalto a Inaba Ma va a cagare Cacchio, questa nebbia Sembra di essere ancora nella tv Chissà se riusciremo davvero a trovare altri indizi sul killer Eh, ora è inutile lamentarsi Continuiamo a cercare informazioni Qualcuno di sospetto? Una persona strana? No, non mi sembra di averne viste Insomma, la città è piccola, giusto? Se l'avessi vista la ricorderai di certo E gli omicidi? Di che stai parlando? Parli del caso in cui sono state coinvolte Sa chi ha chiamato l'annunciatrice È successo solo la scorsa primavera Wow, sembra una vita fa È impossibile ricordarsi una cosa così vecchia, giusto? Eh? Posso aiutarti? L'incidente della scorsa primavera Mi chiede ancora cosa si è successo Fece molto scalpore, è vero? L'ho dimenticato quasi del tutto Wow, deve essere l'età Mmm, persone sospette? Una persona sospetta? No, non mi viene in mente nessuno Non del posto, perlomeno Perché tutti hanno dimenticato Quello che è successo? È vero, sono sei mesi Però sembra che abbiamo tutti Dei ricordi coperti, o sbaglio? È come se i ricordi delle persone fossero state offuscate dalla nebbia stessa È una cittadina Se ci fossero state delle persone sospette Ci sarebbero stati fin troppi pettegolezzi Per quanto mi riguarda Non ho sentito niente del genere Dubito che esista una persona simile Posso aiutarti? Eh? L'incidente della scorsa primavera? Non ricordo È bastato troppo tempo Devo studiare per l'esame d'ammissione all'università del prossimo anno Non ho spazio per informazioni superfle Sembra che non troverai altre informazioni sugli incidenti della scorsa primavera Questo vuol dire che era l'ultima persona Invece tipi sospetti? Una persona sospetta? Ora che mi ci fai pensare la mia amica dice aver visto qualcuno Credo che stia passeggiando nell'area commerciale Perché non vai a chiedere a lei? Ottimo Per prima cosa riordiniamo i fatti È il modo più semplice Seki con Ishi e Mayuki Yamano Devono avere qualcosa in comune C'è stato di certo qualche testimone Qualsiasi informazione ci tornerà utile Anche la più piccola Un'amica nell'area commerciale Non è che sei tu vero? Già ci abbiamo parlato Eh? Qualcuno ti ha detto che ho visto una persona sospetta? Oh quella Ricordi Seki con Ishi vero? Beh è morta un po' di tempo fa Mi ha raccontato che un giorno Dammatame è andato da lei a dirle una serie di assurdità Qualcosa sulla tv Chissà di cosa si trattava Il suo rapporto con Saki Ehi non so cosa stai insinuando Ma sei fuori strada Saki era una brava ragazza La gente non lo capiva Deve essere il momento in cui Dammatame ha cercato di mettere in guardia Saki Sembra che la storia della dichiarazione di Dammatame a Saki Fosse solo un affrontendimento E fin là Ok però mi servono altre informazioni Tu hai visto qualcuno di sospetto? Nel nostro negozio sono venute tante persone Ma non saprei dirti se ce ne fosse qualcuna sospetta Wow molto utile Micio tu hai qualcosa da dirmi? Lei invece? Ti serve qualcosa? Si è visto una persona sospetta? Hmm non saprei Qui in campagna se salta fuori qualcuno di sospetto Tutti lo fanno in giro di qualche ora Devo aver saltato di nuovo qualcuno vero? Se no mi sarebbe uscito il messaggio Hai parlato con tutti Forse mi mancano loro due Persone sospette? In città non c'è nessuno del genere Conosco anche te C'è il ragazzo che abita nella Rujima Kun Tu invece? Se ho visto altre persone sospette A parte Dammatame San Hmm No non mi sembra Eh ovviamente Hai raccolto tutte le informazioni possibili Dovesti andare a dirlo al gruppo Non abbiamo raccolto molto eh Ristorante cinese da Aya Ti incontri con i tuoi amici Dopo aver finito di raccogliere informazioni Non so voi cosa avete raccolto Ma in teoria noi Non abbiamo raccolto nulla di che A parte Dammatame Che l'hanno confermato che era lì E io ho ottenuto tutto senza aver bisogno di un distintivo Anche se in realtà ce l'abbiamo grazie a Naoto Eh beh ovviamente O è un genio come dici tu O è talmente sotto gli occhi di tutti Da non essere notato E anche quella è un'occasione Cazzo c'è dai Eh esatto Eh Io voglio dell'acqua minerale Avete finito di mangiare Ripensiamo a tutto Parli con gli altri Delle informazioni raccolte in giornata Ci arrendiamo così Eh pensa un po' All'inizio avevamo fatto tanto di quelle congetture Che erano talmente stupide Eh esatto No purtroppo niente Come ho detto Qualcuno di talmente nascosto sotto gli occhi Che non si fa notare Eh Ovvio Beh ora usciamo anche noi Decidi di uscire a prendere un po' d'aria Eh beh Te l'avevo detto Uscirà qualcun altro Che carina che sei comunque Ok Esce qualcun altro Però non si deposita Almeno quello Deve esserci qualcosa che avete tralasciato Dovete superare questo blocco il più presto Gli indizi di cui avete bisogno Sono già in mano tua Meglio riepirogarle un'altra volta Tutto quello che avete scoperto Il colpevole ha una sorta di legami Sia con Mayuki che con Saki Inoltre a giudicare dalle lettere di minaccio Probabilmente sa dell'esistenza dell'altro mondo E di cosa avete fatto là Esatto E' molto probabile che sappia anche Cosa sta facendo Namatame E che sia rimasto a guardare Chi potrebbe sapere tutte queste cose? Eh Un'altra stranezza in questo caso È l'assenza di quasi totale di testimoni Entrambe le lettere sono state portate Direttamente a casa tua Eppure nessuno ha notato individui sospetti Così come nessuno ha visto persone strane Girai intorno a Mayuki e a Saki Nonostante il numero di agenti Stranamente elevato Che si è occupato del caso Condurre l'indagine Deve esserci per forza qualcuno di questa piccola città Che corrisponde a un simile descrizione Il colpevole Più papabile Sembra essere Tu Naoto Sei tu il colpevole Appari In tutti quanti i casi No non è vero Però Di sicuro non siamo noi Dojima Nanako Adachi Namatame Abbiamo detto di no Yamano Konishi Moroga Kubo Kashiwagi Dio mio Diamo la colpa alla prof Dai Oh però Ti fanno vedere Davvero tutti quanti I I vari ed eventuali Colpevoli C'è anche il fratello di Konishi C'è Yumi Io voglio dare la colpa alla vecchia Ha detto che è la morte È colpa sua Per forza è stata la vecchia No 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 Nonostante possa sembrare strano in realtà La colpa di Naoto non potrebbe essere così sbagliata È nella polizia Però Se dobbiamo mantenere Questo canone I risultati Finiscono A tre sospetti Uno Due Tre E C'è la questione che vi dicevo Adachi È Un confident Molto strano Parte che tu devi farlo da solo E finisce che va avanti di storia Soprattutto anche lui Allo zero Con una carta simile al matto Adachi È sempre stato presente Adachi È nella polizia Adachi Aveva facile accesso A La casa di Dojima Senza destare nessun tipo di sospetto Adachi Sei tu il colpevole? Ovviamente Limitandosi alle circostanze Non puoi escludere del tutto questa possibilità Adachi Poteva tenere d'occhio i vostri movimenti Poteva avvicinarsi alla tua casa senza problemi E inoltre conosce bene la zona Pensandoci bene L'hai incontrato diverse volte durante le tue indagini Hai saputo dei movimenti della polizia Proprio grazie ad Adachi Tra l'altro Non c'è nessuna ragione particolare per dubitare di lui Ma Qualcosa non ti convince Il suo confident Tuttavia Vuoi parlare ai tuoi amici dei tuoi sospetti riguardo ad Adachi Vorrei vedere se tornando indietro ci fa scegliere qualcun altro Perché proteggere Adachi vuol dire tutto e vuol dire nulla Hai pronunciato il nome di Adachi Era amico di Dojima Aveva accesso alle informazioni della polizia Lo conoscevano tutti Sì E tu Credi davvero alla storia Di un detective incapace Ehi la madonna Piccolina lei Eh Più facile così da avvicinarsi E E E E E E E E E Sì No aspetta Scusa un attimo Chissà se conosceva la signorina Questo non lo so ma so che ha chiamato Una ragazza della mia classe Adachi o la signorina L'ho scoperto oggi pomeriggio però pensato Che stesse solo facendo il suo lavoro Ok lui giustamente Niente a che fare col caso ma in che senso Ha chiamato una ragazza della tua classe Cos'ha a che fare questo Ah intende con l'interrogatorio Ok ora ha senso Ucciderla Io se lo aggiungo Sì in realtà l'ho sempre incontrato Eh Tanti piccoli particolari Ha iniziato ora a gettare ombra sulla sinistra Un'ombra sinistra su Adachi Non è sicuro Ma dobbiamo averne la certezza Tanti piccoli particolari Tanti piccoli particolari Non è sicuro Non è sicuro Non è sicuro Non è sicuro Sì E chissà cosa succederà Namatame allora Prendete motorini Le cose iniziano a muoversi velocemente Ti senti di essere sempre più vicino alla verità Io vorrei provare a fare una cosa Però lo farò probabilmente Post Post questa cosa L'affinità a livello 4 Giudizio migliorato E Teddy dov'è Ed ecco Adachi Ma che ora Ma come ne vado Ma come ne vado Beh, penso che sia l'ultimo dei problemi ora Non in questo modo è il suo lavoro Ci sono tutti i nostri E poi ci sono i nostri E poi ci sono i nostri ofcani Adachi Ma cosa è stato fatto? E oggi è stata un po' spazio Ma allora D... Doshima? Che cosa ha fatto in questo punto di fare? Si è stato fatto, ma è stato fatto Vediamoci se trascinare Hanno fatto? Non ce n'è più bisogno Sentiamo Sentiamo In realtà no, siamo solo in un ospedale al momento No, non è vero, è sempre cazzeggiato Per lui Dovresti chiedere ad Adachi Delle spiegazioni su Yamano Dovesti chiederle Dell'interrogatorio di Saki invece Quello non dovresti averlo scordato C'è ancora qualcosa che devi chiedere ad Adachi Le lettere di minacce Lui sì però, lo ricorda bene Certo, comodamente tra l'altro Ad Adachi, su di freddo No, e non ci importa in realtà No, 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 no Aspetta Adachi Eh, già Ma ca Beh in teoria In teoria Ci potrebbe aver sentito parlare Anche mentre stavamo parlando Di inseguire Namatame per salvare Nanako Mentre c'è stato l'incidente Però arrivato questo punto Ogni cosa detta È puramente una prova È bastata una parola Una parola di più Un errore Solo E ti sei fregato con le tue mani Ovvero Nani to'a分からなかったが Irwa感があった Dojima san'o Sujitsu shouzoku ga tukamei Nante musu ni aru koto da Nanno ni boku ga yomi ageta Namai ni ironga denai no mo Oka si Cotaete kudasai Adachi Keiji Si Ecco esatto Ecco esatto Inseguitelo C'è una soluzione C'è una soluzione lì eh C'è una soluzione lì eh Guardali Forza Andiamo via Tanamo Adachi E' l'unica E' l'unica Lo inseguiamo Ed ha importanza Il detective Adachi Ora è estremamente Sospetto Hai fatto un altro Parso verso la verità Livello 5 di giudizio Per oggi avete deciso Di salutarvi E tornare a casa Andiamo a dormire Domani Sicuramente Entreremo Teddy Questo A quanto pare Si è stato convocato Nella stanza di velluto Però questa volta E' diverso Non vedi né Igor Nè Margaret Nè Marie Teddy è seduto là Senza far caso Della tua presenza Sensei Penso che sia solo un sogno Potrei chiederti lo stesso E' inquietante Il fatto che ti guarda Dritto dritto Ok Ok Ma in realtà no Perché tu hai affrontato la tua stessa ombra Sono tutti preoccupati per te Eh sentiamo Noi l'abbiamo visto Il personaggio non lo poteva sapere ovviamente Cognizione umana Sono come Memento Ma diversi a modo loro Ma non ha senso Un'ombra può avere un'ombra Allora se tu sei un'ombra Eh esatto Ti dispiace la fine per lui Non lo so ancora che Nanako è viva Nanako è viva Quindi posso mantenere la promessa Racconti a te di come Nanako si è risvegliata Forse perché tu alla fine Vieni anche tu da qui Qualcosa del genere Perché qualcuno l'ha voluto Andiamo avanti insieme Ha importanza Ha importanza Tu sei me e io sono te Tu sei me e io sono te Hai instaurato un legame autentico Queste affinità sincere saranno i tuoi occhi per scorgere la verità Ti impartiamo la facoltà di creare Helen La forma definitiva dell'arcano Stella LL Questa non so quale sia Teddy è arrivato al livello massimo Da società Teddy Stella ha raggiunto il suo apice Il legame non può essere compromesso L è il portatore di luce Ok Ha influenzato anche la sua persona Però non si è evoluto Che strano Livello massimo E la sua persona è rimasta invariata In un istante Teddy scompare Igor, Margaret e Marissimo Di nuovo seduti ai loro posti Ma quindi lui non è un'ombra O si Igor ha sul volto un sorriso piuttosto eloquente Ai Chissà chi è il guidatore di sta macchina Più che altro è strano che Marie non dica mai una parola Quando si parla con loro due E' molto strano comunque Il fatto che non spiccichi quasi mai una parola Riparto elettrodomestici Ma noi non diciamo nulla del sogno Noi non diciamo assolutamente nulla E Teddy ovviamente non c'è Vediamo se la sua persona è quella nuova Sì Beh ora è anche la persona potenziata Su questo mondo ne dubito Del caso sì Eh è fin là Ah è tornato Ma non è vero Nanachan Oh Nanachan E tu quando cazzo sei entrato qua dentro scusami Oh Ano Nanachan Sàっきi Bokk no koi che ho sentito Ganno Rai A Ano Ano Kik 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 Conoscere te stesso E io sono ancora convinto che lui non sia un ombra Ma se lo dice lui vuol dire che lo è, cavolo Persona risvegliata Vediamo come si evolve Forte volontà Teddy ha accettato e superato le sue debolezze risvegliando il suo vero potere Si è infilato il razzo nel culo però Kamui Kamui Ha spostato il razzo dalle braccia al culo però vabbè o Che importa Eccomi Eccomi Ahaha Eh beh Scansionato un'area probabilmente vastissima Ma in realtà no, siamo noi combattere, mica lei Ma no, l'abbiamo anche fatti evolvere i tuoi poteri tesoro Eh, se fossero inutili fidati che Non avrei perso tempo con te Ma tutto bene Ma il pelo Un lozzo Un lozzo Un lozzo Il mio naso ora è più forte Ascoltate la confessione di Teddy che ha finalmente capito chi è veramente Vi spiega che è solo un'ombra e che nonostante fosse allo stremo è riuscito a tornare nel vostro mondo Eh beh E allora tu di chi sei il pensiero scusami Non è vero, hai una persona Ma quindi forse anche se Debole la nebbia era il catalizzatore per far si che Teddy potesse rimanere in questo mondo Io no Cioè io volevo capire Io pensavo fosse una cognizione Ma ci tira un pugno Con cui il pugno è il dorso E' esatto E' quello il punto Ma quindi mi stai dicendo che Non ha senso Non ha un senso logico l'esistenza di Teddy O il suo possedere un'ombra Non ha propriamente senso Finchè mi dici che Un costrutto Costruito da Igor E appunto la Venza Aveva più senso Ma così un'ombra qualsiasi Che crea una persona Disadattati Eh esatto Chi dà dei disadattati Quel coglione Col tuo bel nasino Nuh Arigato Bello zotto Hai fatto un altro passo verso la verità Livello 6 Voglio vedere Che persona è Giudizio è migliorato Visto che domani riprendete le ricerche Avete deciso che per oggi è meglio tornare a casa Io direi che già Se già si può entrare dentro la tv Lo facciamo e punto Non abbiamo Molto altro da fare di conseguenza Perché perdere tempo Ti sei ripreso del tutto Dagli eventi di Ehi Dovresti tornare nel mondo della tv insieme agli altri dopo la scuola Ovviamente Prima è il dovere no? Meno male che non c'è nessuna interrogazione Oh cacchio Ora funziona meglio È da Gino No 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 Non è vero? S-S-S-SONNA MEDE MIRRARELUTO... N-NANI-GA NANDEMO KAGI ATTE NANKA DAME KUMA AN YOKAN! COCO GAKUMA NO FUNBARITOKOR KUMA! TUI CARA GEYUNAKO KUMA! Dogrund� posição, HUNKANO KAGI ATTE NAKA DAISO! zasadine... 幹嘛 some Noi a ma ulero, semeyan sona mamma culana常era e di kwan Uбу ke da kanji lukum datse achar mom Vuol dire tutto e nulla insomma Dove è stata assassinata la tizia Eh esatto Ma no Ma dai Un po' annebbiati Cristo Di corsa Ma no Si è fermato pure lui sto giro Posso fare un salvataggio? Grazie a te il gruppo è tornato all'atmosfera gioiosa e anche fatto un altro passo verso la verità Sto confident va avanti tranquillamente da solo Proprio zero preoccupazioni Livello 7 migliorato Tra l'altro chiede il giudizio satana Eccola qui la stanza Cioè quindi questa se l'è fatta pure con lui Anzi Anzi Visto che dicevano di essere di Naba Forse non si parla di una roba recente Si parla anche di anni prima Però alla fine ci siamo Adachi Sei tu il vero assassino Non buttarla dentro Ah no non lo conosce Ah no non lo conosce Ah ok no Era solo infatuazione diciamo Ah uruzzai 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 Da ore Ah no 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 No dai il grido da cartone animato Poi Saki Ok Ah ok Ma allora è stata una roba casuale Anche per lui Ok Ok E per cosa volevi pulirla Sì ma per cosa volevi pulirla Spiegami un attimo meglio Ma eravate nella lobby Come avrebbe potuto vedervi Ah no Ah no è vero Aveva detto che ha fatto un'ordine Ma Se avevi detto che non c'era nessuno Non è vero È un'attività di continuo È un'attività di continuo Ed ecco qua. Pure? Pure? Ok, quindi di conseguenza comunque le persone venivano trovate morte senza che lui andasse a ritirarle, quindi non è mai entrato qui lui. E invece era il contrario a prescindere. Ah, ma... E' quello che c'è? Chi ha tre ucciso! Sì Ovviamente come avresti potuto non credegli Sì Ah È stato lui a fomentarlo allora Dentro la tv Sì 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 Hì Sì 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 no 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 Sì Sì, non lo so! Non lo so, non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Non lo so Non lo so Come quando il Memento si sono fusi la vigilia di Natale Sì, non lo so Distruggere in Abafuori? Non lo so Ecco, ovviamente Dungeon? Dungeon time? Sì, non lo so Eh, esatto E' arrivato il momento di finirla Allora Cresce il livello di... Ok, questo è stato inaspettato Stavo per dire Pensavo sarebbe salito il livello di... Di giudizio Abbiamo già tutto quello che ci serve, Naoto Non ci serve nient'altro Eh, unendo le vostre forze Avete aperto un sentiero verso la verità Quindi l'abbiamo aperto noi quel barco Ci porta dritti verso di lui A prescindere da tutto Io ti dico Che se ci fa rimanere dentro Io rimango volentieri dentro Cioè, non mi prendo la briga di uscire per poi rientrare il giorno dopo Se mi fa già rimanere Se mi fa già rimanere Rimaniamo qua La finità Livello 8 Giudizio migliorato Eh, oddio Non mica tanto Cioè, sì Era comunque Un amico Però... Interessante Questo è un concetto interessante Grazie di avermelo detto, Rize Non te lo giuro, ma... Vedrai La sorprendente identità del vero colpevole è stata confermata Prima della fine dell'anno la città rischia di essere inghiottita dalla nebbia Devi chiudere i conti prima di allora Decidi di prepararti al meglio prima di affrontare Adachi Ergo Esci fuori e ci entri da domani Andiamo a dormire, allora Canale di mezzanotte Ti torna in mente le parole dei tuoi amici Cosa vuoi fare? Sai che... Nonostante tutto Io la tenterei da solo Allora, salvato ho salvato Io un tentativo lo farei Partendo ora potrei arrivare al Giunes prima dell'orario di chiusura Hai deciso di andare ad Adachi da solo Reparto elettrodomestici Non c'è nessuno Abbiamo le capacità per eventualmente vincere E' avvolta nel silenzio Sembra di non esserci nessuno Dov'è Adachi? L'entrata è scomparsa Devo parlare con te Adachi Non ho bisogno di loro per sconfiggerti Io credevo in te Questa è vero Non me ne sto lamentando E' questo che direi Dojima? Ma io non ti voglio convertire Non puoi spararmi Io ho un potere che tu non hai Potevo fermarti se avessi voluto Puoi sentire l'odore acro della polvere da sparo Non sembrava una minaccia Hai la sensazione che sia inutile continuare a parlare con Adachi Senti che il tuo rapporto con Adachi è cambiato drasticamente Wow Addirittura Si è spaccata la carta ed è diventata la numero 11 Tu sei mei solo te Ora conosci il mutamento dei legami Questo è cambiamento il tuo primo passo verso la scoperta della verità Il tuo potere interiore del giullare che diviene lussuria Giullare lussuria Giullare l'odore Nonostante tutto sento di aver fatto una buona scelta Venire qua da solo Ciao Bye bye Nonostante tutto sono convinto di aver fatto comunque la scelta giusta Sembra che Adachi ti stia impedendo di entrare Quello non era il vero Adachi in ogni caso Finché non tornerai qui con i tuoi amici Non sarai in grado di raggiungerlo Per ora dovrai tornare indietro Lo sapevi che sarei andato da solo Lo sapevi che sarei andato Allora sapevo che avresti detto una roba del genere Ma non l'ho fatto in sfiducia verso di voi Non l'ho fatto per sfiducia verso di voi Volevo solo vedere cosa sarebbe successo Dovrebbe arrivare verso la fine dell'anno Prima di allora dovrai giungere a una decisione Dovrai prepararti al meglio delle tue possibilità Grazie a tutti